Indirizzati da una soffiata, i carabinieri della Compagnia di Cosenza, gli ordini del colonnello Ottaviani e del capitano Passacchietti hanno rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare armi e droga a casa di un 63enne incensurato. Si tratta di Mario Rende, pensionato, ex camionista, non è escluso che proprio grazie alla sua attività di trasportatore possa trattarsi di un corriere della droga. L'uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi e munizioni. I militari sono penetrati all'interno della sua abitazione di Piazza Spezzano, nel vione Vagliolise di Cosenza, trovando 45 panetti di hashish di 103 grammi ciascuno, per un totale di circa 5 kg, del valore di 60.000 euro, rinvenuta inoltre una beretta con matricola a brasa con caricatore inserito e pronto all'uso, e 14 colpi di pistola. Accertamenti successivi hanno permesso di appurare che il munizionamento risultava potenziato. Sono in corso ulteriori verifiche tecniche al fine di scoprire se l'arma è stata utilizzata in precedenti delitti. Salvatore Bruno per la C News 24